No, no, adesso vogliamo, facciamo, giriamo, si, si, è bellissima questa cosa, fatevi vedere con le mani alzate, girate un attimo che facciamo la foto, poi con le mani alzate, perfetto, ci siamo, adesso vi consiglio vivamente di andare invece sotto, faccio 3 in cui uno e poi si spada, scuotiamole un po', pronto, 3, vai, 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 aspetta, lo vuoi fare tu? Ci siamo, 3, 2, 1, via! Ed è partita la ventunasima edizione di Cori la Visa, vi aspettiamo in Piazza della Signoria, insieme a tutti i nostri amici e ai tanti testimoni, con l'amico Luca Calvani, che vi stanno già aspettando in Piazza della Signoria, arriveranno Lorazio Magnoni, e poi ancora con l'occhiaro in Piazza della Signoria, vi aspettiamo ora, sono state torne la vita, a me, Gio, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti